La mia sensazione da esterno, diciamo da genitore e da ascoltatore esterno, mettiamola così, è che ci sia una marea di roba abbastanza uguale che cerca magari di cavalcare dei modelli più americani o più stranieri. E poi invece hai delle persone che fanno delle robe diverse. Ieri ne parlavo, non mi ricordo con chi, avevo parlato con Tedua e mi aveva colpito. Bella la tua intervista con Tedua, sì. Mi ha colpito la sua capacità, diciamo, linguistica, no? Bergonzoniana dal mio punto di vista. E a volte parli, insomma, con dei ragazzi, dei rapper o degli artisti che ti sorprendono molto. Non hanno bisogno di andare sul luogo comune, sulla parolaccia, sulla scena forte, ma semplicemente con la loro capacità descrittiva, narrativa, linguistica, invece sono in grado di colpire. Quanto, diciamo, si sta sviluppando anche questa cultura o quanto invece il mercato comunque poi va un po' sempre verso i soliti luoghi comuni? No, guarda, credo che effettivamente il rap sia qui per restare, perché ormai ho trovato la formula, diciamo, che è quella di raccontare una loro realtà, una realtà dei ragazzi e trasportarla in un universo artistico, che quindi ti consente anche di andare un po' oltre determinate barriere, una determinata morale. Ecco, bisogna sempre farlo con un savoir faire artistico importante, perché altrimenti veramente scendi nella cosa becera e magari giusto per farti notare, fai quattro rime, spinte, con nomi, cognomi e parolacce, pensi di riuscire, non è così. Credo però sia qui per restare, proprio perché artisti come Fibra, che invece appunto si è giocato anche la vita, perché poi ti metti, quando diventi un personaggio pubblico così grande, è chiaro che hai benefici e anche lati abbastanza negativi, che alla fine comunque tu provi solo se lo vivi, perché altrimenti è ovvio che tutti possano dire, vabbè ma essere famosi è bellissimo e hai solo dei vantaggi, in realtà non è così, chiaramente, soprattutto quando ti esponi, esponi almeno il tuo personaggio, se non la tua persona, e ti lanci in un genere musicale che comunque è di denuncia. Possiamo anche aggiungere le virgolette, se vuoi, però è comunque un genere che pretende di dire qualcosa, no? Quello che dicevi tu del fatto che tanti ragazzi poi siano molto articolati, come Tedua, che per te è stata una scoperta intervistandolo, effettivamente non tutti hanno voglia, diciamo, di interagire con la nostra generazione, per cui gli basta effettivamente raccontarsi e venire apprezzati dalla propria generazione. E nel caso di, diciamo, un incontro generazionale, credo che molto spesso la mia generazione, nelle generazioni precedenti, tendono a dare un giudizio alla musica dei più giovani in una maniera molto superficiale, non vivendola, no? Molto spesso fa schifo, era meglio prima, il mio genere musicale era più figo prima. In realtà, se ti ricordi, io immagino anche i tuoi genitori, quando io tornavo a casa con i dischi dei Sex Pistols o dei Clash, dicevano, ma cos'è? Non sarà mica musica questa qua? Ecco, è una cosa che si ripete. Secondo me, i ragazzi oggi hanno anche più voglia di farsi ascoltare e anche di farsi capire. Credo che tanti usino il rap non solo per raccontarsi, ma anche per aprire un canale di comunicazione su temi un po' scottanti, che alle volte in famiglia non hai questa facilità a dittavolare, no?